Grazie a tutti. E questo è un bellissimo ambito da sera, morbido, elegante, decorato con anche questo, una pioggia di Swarovski. Elegante, morbido, vola leggermente, lezzatro. E' un po' carino. E' poco fiato però, un po' più fiato, dai, ok, facciate un applauso alla nostra bellissima. Se vi ho convinto, se vi piaccio, votatemi. Io sono una persona semplice e mi piace divertirmi. E allora fatela divertire ragazzi, con un bel applauso, dai. Numero tre, come ti chiami? Laura. Laura, scusa ma non ho, non ho, sono arrivato un tettino. Ho cercato di essere sola. Benissimo, per cui votate chi mi emoziona. Benissimo, andiamo alle 14. Ciao a tutti, sono a Marika e vengo da Padova. Oggi sono qui per divertire. Grazie, oggi è dovuto tenersi un po' perché voleva fare lo spettacolo un po' più fiscale. Ci siamo emozionati con tutte queste donne, ragazzi. Adriana Fuentes, facciamo un applauso, grazie. Eccola qui la vincitrice. Ha fatto un colpo quando l'ho chiamata Maria Elena. Allora, Lady Vicenza, numero 11, Adriana, bene. 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 Grazie. Grazie.